Era il 1994, abbiamo suonato alla rampa, c'erano penso 20-30 mila persone, perché a Cuba solo che ci sia musica la gente si riunisce ed è una cosa bellissima. Per me quando dicono Cuba che l'inda Cuba è bellissimo. Allora mi raccomando suoni metteci per Cuba che è il nome di questo cd in cui ci siamo noi nomadi ed altri grandi artisti, tenetelo ben presente perché se ne comprate anche un cd per uno, ne vengono fatti tantissimi, forse lo possiamo portare a qualche medicina importante e aiutare qualche d'uno a superare certe malattie. Suoni metteci per Cuba. Siamo la più gran città dell'intera umanità.